Daiti Challenge, recita, durata con me, io sono rosso, tu sei blu. E ti ricordi quando mi hai detto che... Puoi stare zitto che sto leggendo? No, ma questo è zitto, ne voglio parlare con te, hanno già detto una cosa importante più che questo libro lo puoi chiudere per favore una cosa importante maronna mia lo leggi dopo questo libro ti devo parlare